buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parlerò di un audio mp3 molto potente dal titolo no influenze negative che eliminerà da te dalla tua mente dal tuo corpo dalla tua vita visibile invisibile tutte le influenze negative che qualcuno o qualcuna nell'arco della tua vita ti ha instillato da vicino da lontano a tua a tua conoscenza o a tua insaputa quest'audio mp3 molto potente dal titolo no influenze negative eliminerà tutto ciò che di negativo ruota attorno a te e che tu magari con la coscienza con la logica non riesce a capire il perché della tua situazione della tua sfortuna della tua tra virgolette sfiga eccetera eccetera sia dal punto di vista mentale fisico e anche di vita visibile e invisibile questo audio mp3 dicesse è stato creato con un sapere molto antico che proviene direttamente da los angeles beverly hills dal grandissimo professore dottor michelanghel grai mio maestro mio mentore mio associato mio amico ed è stato arricchito per il 20% dal sottoscritto quindi ha un sapere che sfiora il secolo di esperienza che allontanerà da te tutte le influenze nefaste negative sotto ogni forma colore e nome non devi credere devi soltanto fare ti meraviglierai e aggiungo funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto anche contro la loro volontà se segui le istruzioni facilissime alla prova di un nonno di un pigro e di un idiota quindi scarica subito qua giù clicca ti scarichi l'audio mp3 dicesse no influenze negative qua giù o qua su non so dove sta il link ti scarichi l'audio mp3 dicesse del dottor Claudio Serracino no influenze negative e cambi radicalmente la tua vita ti meraviglierà di ciò che succederà attorno a te dentro di te in te per te con te non devi credere come ripeto sempre devi soltanto fare però ricordati tutti sanno utilizzare le parole ma non tutti sono artisti delle parole ok per cui fidati funziona un signore mi ha chiesto ma cosa può fare cosa non può fare fa tutto di più poi esistono gli audio mp3 personalizzati che è un altro mondo è un'altra dimensione poi esistono anche le sedute online di ipnosi dicesse vera e professionali che adesso sono sospese ed è un altro mondo un'altra dimensione sono molto care per cui tu con un solo audio mp3 non influenze negative come è successo a centinaia e centinaia di persone nel mondo da qualsiasi parte del mondo puoi eliminare il tuo problema della suggestione autosuggestione negativa data magari da qualcuno che ti ha condizionato a vita quindi scaricati quest'audio mp3 dcs o rimani come sei e continua a pensare al perché non hai rinunciato ad una colazione al giorno per 30 giorni per cambiare la tua vita finalmente visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com visita le mie fanpage su facebook ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube qua giù benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor Claudio Saracino e faccia il condivido con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita e seguimi anche sui miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor Claudio Saracino e alla prossima un bacio e un abbraccio grazie a tutti